4 febbraio 1875. Nasce a Trento Cesare Battisti. Giornalista, politico e patriota, abbraccia presto la causa dell'irredentismo, battendosi per l'unione del Trentino all'Italia. È deputato della minoranza italiana al Parlamento di Vienna nel 1911 e poi alla dieta di Innsbruck nel 1914. All'esplosione del primo conflitto mondiale Battisti si rifugia in Italia iniziando un'appassionata propaganda interventista. Volontario all'ingresso in guerra dell'Italia contro l'impero austro-ungarico, Battisti viene catturato dai soldati austriaci e condotto di fronte al tribunale di Trento. È riconosciuto colpevole di alto tradimento e condannato a morte. Il 12 luglio 1916 viene impiccato e, secondo alcune testimonianze, morì gridando «Viva Trento Italiana, viva l'Italia!». Nei primissimi anni del secolo il rinnovo della triplice alleanza fra Germania, Austria e Italia contrastava con la piena applicazione del programma irredentista. Uomo concreto, positivo, Battisti sposta allora la sua lotta su obiettivi realizzabili e immediati, rivendicando la separazione amministrativa dal Tirolo e l'autonomia del Trentino.